e pensare di non avere più confine dal Wondi a Porto, Italia-Ucraina buona settimana dentro il gioco come detto con Tony prima puoi vedere se si parte l'azione camaranesi ancora sul tasto prima occasione 3 e 30 1-2 con Zamblota, grande colpo di tacco ancora Zamblota, prova il sinistro Zamblota 5-26 non coprono bene gli spazi 1-2 è saltata e la pista di Zamblota e il softball si fincerà sulla palla c'è arrivato c'è troppo lungo, pallone direttamente sul sinistro c'è il centro con il sinistro deviato buona questa combinazione tra i pallici quando arriva il traversone c'è un contatto buffone, abbiamo rischiato tantissimo sulla conclusione, la palla è per Vilevski usa posizione regolare ecco il pallone di ritorno c'è tempo per il traversone che è davvero 2-3 guarda che tutto sta il pallone è tagliato sul secondo paro traversa 1-2 3-0 Rosale rientrato, poi il palla per Vilevski applausi mi sembra va a sceltenco riesce a toccare il pallone come avrebbe voluto buona parata di Shorkovski ha fatto una cosa Tony grande stop e grande apertura bella compilazione ancora buffone sul colpo di tessere sono schizze che passa così ma da torbici sono 3-4 nel fondo bene bene oggi abbiamo fatto un grandissimo più tempo iniziale e poi nel secondo grazie